Benvenuti in questo nuovo video in cui impareremo CmapTools, un software per la creazione di mappe concettuali Innanzitutto il programma è gratuito, metterò tutti i link nella descrizione del video, quindi troverete in basso del video E impareremo appunto a utilizzare questo programma e la prima cosa che dobbiamo fare è andarlo ad installare Dall'installare ci troveremo di fronte a una schermata simile dove cliccheremo su download Difetto di questo programma non esiste per Android, esiste per iPad ma ad ogni modo esiste per tutti i sistemi operativi dei computer Clicchiamo qui, il sito ci porterà davanti una selezione di 4 prodotti, sono tutti gratuiti Però quello che noi interessa per adesso è CmapTools, download CmapTools, quindi clicchiamo qui Poi vedremo anche CmapCloud Cliccando su quanto visto prima, cioè questa iconcina qui, questo pulsante qui Dovremmo compilare un form, quindi un modulo con indirizzo email, i nostri dati Quelli con l'asterisco sono obbligatori e poi verranno attivati questi pulsanti sulla destra Che ci permetteranno di scaricare il software relativo alla nostra tipologia e versione di sistema operativo Accenniamo anche a CmapCloud CmapCloud sostanzialmente è l'utilizzo online di CmapTools E l'idea del cloud è qualcosa verso cui ci stiamo sempre più spingendo Poca e sempre minore importanza stanno ricevendo gli applicativi che girano in locale Quindi installati sul nostro computer Sempre più importanza, in converso, stanno ricevendo quegli applicativi che girano sui server Dei servizi che andiamo ad utilizzare E CmapTools in questo caso CmapTools non fa eccezione Perché effettivamente potremmo creare e salvare E quindi essere svincolati dall'utilizzo di un dispositivo o di un altro Tutte le nostre mappe concettuali Quindi salvarle in cloud Se noi clicchiamo su CmapCloud and CmapTools in the cloud Sostanzialmente ci viene richiesto ovviamente non di installare nulla Perché altrimenti non parleremo di cloud Ma di creare un account Creiamo questo account E poi ci viene sostanzialmente presentato quello che possiamo fare Ovviamente possiamo costruire le mappe direttamente in cloud Possiamo sincronizzarle con il nostro tablet iPad E possiamo ovviamente anche poi accedere O comunque noi ci troviamo E se voi andate in questa pagina qui Trovete anche dei tutorial che potete cliccare Detto questo ci spostiamo adesso sul software vero e proprio Arriviamo quindi alla parte pratica Una volta installato CmapTools Ci apriremo e troveremo una schermata del genere Qui ci sono delle mappe e delle cartelle che ho creato io Il programma è molto intuitivo Funziona grossomodo come Windows La gestione delle cartelle e dei file dentro Quindi possiamo mettere dei file delle cartelle I file in questo caso sono mappe Non tratteremo la gestione di CmapTools in cloud Perché è sostanzialmente identico Ma semplicemente avviene nel browser E non nel programma scaricato online E scaricato in locale sul nostro computer Scaricato e installato Procediamo quindi alla creazione di una mappa O almeno vedere quali sono i rudimenti per crearla Allora ovviamente clicchiamo su file Nuova Cmap Cmap per essere più corretti Detto questo clicchiamo due volte Qui c'è il concetto centrale che vogliamo analizzare Ovviamente l'interesse è dove si trova L'interesse si trova nel fatto che noi possiamo Andando su finestre mostrare stili Sostanzialmente formattare, personalizzare, colorare Testo, oggetti eccetera eccetera Ad esempio potrei volere che la scritta concetto centrale Che il mio concetto centrale è la mia mappa concettuale Abbia una grandezza molto più importante Cioè che è ad esempio 24 E posso caricarlo Posso diciamo cambiare il font Utilizzando qualsiasi font ho installato Nella mia macchina Quindi anche font non tradizionali Non i soliti Times New Roman O Arial o Verdana Quindi per esempio lo cambio così Ecco, quindi ora è cambiato Poi ovviamente posso allineare il testo Sia a destra e a sinistra Che in basso e in alto Ovviamente metterlo corsivo Scusate grassetto Corsivo sottolineato Ovviamente poi una mappa è tale Se ha le frecce Quindi ha un concetto centrale Ci sarà un concetto subalterno In cui io potrò ad esempio dire Il concetto centrale Che sussume Cioè racchiude Un concetto secondario per esempio Eccetera eccetera Concetto secondario magari Uno Concetto secondario Magari due E quindi qui Diciamo potrei anche Tenendo Se volessi ad esempio Uniformare la colorazione Di questi blocchi Dei concetti secondari Potrei cliccare su uno Tenere premuto control Cliccare sull'altro E ora questi due selezionati Vediamo come modificare Questi box Queste scatole Innanzitutto potrei andare qui Oggetto Scegliere la forma Posso farlo ad arco Posso farlo quadrato Quindi con angoli retti O posso farlo tondo Generalmente La forma predefinita È anche diciamo La più utile Estensione Posso renderli molto vicini O molto lontani Ma posso anche semplicemente Spostarli Con Diciamo Cliccando E trascinando Dove mi pare I blocchi Posso ovviamente Scegliere Uno sfondo O È anche Un'ombra Un'ombra in realtà È inutile Però sostanzialmente Questa cosa si può fare Crea un'ombreggiatura Crea un'ombreggiatura Cos'altro posso fare Posso Inserire Dei link O Posso inserire Sia dei link Diciamo A dei veri E propri A dei veri E propri Siti Quindi Aggiungerò Un indirizzo web Ad esempio Non lo so Ecco questo qui Htttp Per esempio www.ihmc.us Us Che è praticamente La casa produttrice Del software E poi Sito Sito Cmap Per esempio Se io faccio questo Posso anche mettere una riscrizione Delle parole chiavi Eccetera eccetera Se io faccio questo Mi porterà al sito Oppure Ancora Posso Collegare A Posso collegare Ad altre risorse Ad altre risorse secondarie Come per esempio Altre mappe Questo è importante Perché Ci permette Una Ipertestualità Cioè È pensato per Ipertestualità Del resto La mente umana Diciamo Funziona un po' Secondo la metafora Dell'ipertesto Con concetti Ci riportano ad altri concetti E tutto Diciamo In un insieme Collegato Interellato Ancora qualcosa Possiamo modificare La linea Quindi Utilizzare varie forme Non sto a farle vedere tutte Perché Conoscere un programma Significa anche Esplorare le possibilità E questo Lo lascio A chi è interessato E Sostanzialmente Per un uso minimale L'ultima parte Che ci serve vedere E l'esportazione Allora Io posso Esportare Il documento In pdf In grafica Vettoriale scalabile Cioè una grafica Che io Se zoom o dezoomo Non perde definizione E Ho informato Immagine Ho informato Immagine Detto questo Ho creato La mia mappa La posso salvare Con nome E quando la salvo Con nome Posso mettere Il titolo Posso mettere A quale domanda Risponde Tutto questo È opzionale Però Diciamo È un buon metodo Per classificare Le nostre domande Posso Mettere alcune parole Chiavi Chiave La lingua L'organizzazione L'email Eccetera Eccetera Posso anche salvarla Nel cloud E quindi accedervi E Questo sostanzialmente È tutto Per quanto riguarda Le mappe Con Cmap Tools L'organizzazione